Magica serata, dove abbiamo detto la Rotation Stage, siamo noi, sopra, sotto, davanti, dietro al palco, dappertutto. Grazie pubblico che rimanete con noi fino in fondo. Grazie, grazie. Grazie Fabio perché mi sto divertendo. Grazie Mirka, lo sapevamo, ci siamo divertiti anche l'anno scorso. Una volta è meglio buona la prima, la seconda non va. Abbiamo un pochino di esperienze in più, forse. Andiamo avanti. David Bowie. Sì, esatto. Durante la serata abbiamo cercato di omaggiare dei grandi come Prince, Cranberries, che purtroppo se ne sono andati. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. I dorsi. Paravosi degli ultimi anni, proprio recenti. Ah, sì, dorsi. Sono poche esperienze. Però purtroppo ce ne sono vari. Sono melomane. Non poteva mancare lui, il duca. Il duca bianco non poteva mancare. Davide. Esatto. In qualche modo è un modo per sentirli ancora vivi, che quello che ci hanno lasciato, durerà per sempre. Per cui il pezzo è Rebo Rebo. David Bowie. Alla voce abbiamo Silvia Leonardi che è già qua. Terry. Poi vorremmo Terry. Con o senza corna musa. Senza Terry. Terry. Help me please. Alla chitarre Maurizio Ragazzini, Willy Minguzzi e Emanuele Contini. Al basso Franco Fabri e Claudio Benvenuti. Alle batterie Lorenzo Monti e Mattia Cimatti. Alla tastiera Emanuele Verani. E di corsa sta arrivando direttamente dal camerino. Sta arrivando Sid Vicious di Cotignola. Per questa interpretazione di Rebo Rebo. Rebo Rebo. Come on! Rebo Rebo. Rebo Rebo. Alla tua e i 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